Ben ritrovati amici di Padre Pio TV, siamo ancora in compagnia del dottor Giuseppe Caccioppoli che ci sta guidando alla scoperta di fatti meno noti relativi alla vita di Padre Pio e di persone, suoi devote o di persone che comunque hanno beneficiato di quei doni che Padre Pio aveva ricevuto dal Signore. Oggi parleremo delle sofferenze che Padre Pio sopportava per gli altri. Raccontiamo qualche episodio su questo. Padre Pio aveva la tendenza di dire sì sì ci penso io, ti aiuto io e se uno soffriva lo posso fare io, soffro io per te. Pio aveva questa tendenza che era terribile perché alla volta era proprio duro quello che accettava. E così Donatilio Negrisolo che era un prete dell'Alta Italia, romagnolo, venne a San Giovanni Rotondo. E con lui stava questo ragazzo giovanotto di cattolica e aveva un tumore alla tempia. E così il ragazzo riuscì a parlare con Padre Pio, dicendogli del suo tumore. E Donatilio dopo di rimando chiese ma che cosa ti ha detto Padre Pio? Padre Pio mi ha detto soffriamo insieme. Aveva un tumore alla tempia questo ragazzo. Era il venerdì santo. E lo stesso Donatilio Negrisolo incontrando Padre Pio gli anticipò gli auguri di Pasqua. E Padre Pio disse per me i giorni sono tutti uguali. E poi oggi sembra di avere un trapano che mi penetra nella testa, disse questo indicando la tempia. Allora Donatilio Negrisolo gli disse, Padre per forza, voi vi prendete il male di tutti. E lui, Donatilio Negrisolo, annota che Padre Pio girandosi verso la piazza, dove si sentiva il vociare della gente, disse, magari fosse vero che potessi prendermi il male di tutti per vedere tutti contenti. E Donatilio Negrisolo disse che in seguito seppe che il giovane è qua lì. Anche Padre Eusebio Notte che abbiamo citato in passato, perché tra l'altro è stato un testimone privilegiato della vita di Padre Pio, testimone al processo, è stato colui che per cinque anni ha accudito Padre Pio nella fase della sua vita in cui aveva bisogno di assistenza. Ecco, cosa ci racconta in proposito? Padre Eusebio un giorno si è andato a Padre Pio e teneva in mano una lettera. Nella lettera si chiedeva a Padre Pio di offrire le sue sofferenze per un sacerdote. E il padre, come sempre, disse sì. Lì domani mattina, Padre Eusebio stava sempre vicino a Padre Pio, sei o tanti, e quindi vide che domani mattina Padre Pio si svegliò con un lancinante dolore al fianco di cui non si capacitava. E fu lo stesso Padre Eusebio a ricordare. Il padre ha dimenticato che ieri ha promesso preghiere e sacrifici per quel sacerdote. E lui, ascoltore, disse soltanto già, come se fosse tutto ovvio. Anche Padre Agostino, Padre Agostino Daniele da San Marco in Lamis, che è stato ministro provinciale dei frati Cappuccini quando Padre Pio era in vita, è stato confessore, è stato direttore spirituale di Padre Pio. Anche lui ha beneficiato di questa possibilità che Padre Pio aveva di prendere su di sé, sul suo corpo, la sofferenza degli altri. Padre Agostino camminava nel corredore incontro a Padre Pio e zoppicava. E aveva un persistente dolore al ginocchio. E Padre Pio gli chiese, e lui disse, che aveva questo dolore da un po' di tempo, e Padre Pio gli disse, coraggio, vedrà che passerà. Padre Eusebio aveva assistito all'incontro e si accorse che dopo poco era Padre Pio che incominciò a zoppicare dolorosamente, cosa che non aveva fatto fino a un minuto prima. E quindi la sofferenza era passata da Padre Agostino a Padre Pio, la stessa sofferenza. Abbiamo parlato di un sacerdote, abbiamo parlato dell'esperienza fatta da due frati cappuccini, i laici, un racconto di una persona laica accanto a Padre Pio. La signora Renata di Parma, sin da bambina, aveva il timpano traforato e ne usciva pus e sentiva un sibilo che la faceva impazzire. I medici le consigliarono l'operazione, ma lei rifiutava, perché aveva paura del dolore. Padre Pio le disse, la devi fare l'operazione, la devi fare, il dolore me lo prendo io. E Renata, non è giusto che voi soffrite per me, mettetemi la mano sull'orecchio e mettetela, che vi costa. E Padre Pio le diede un piccolo schiaffetto. La signora sentì un fortissimo dolore, e mise un urlo, e dovete scappare dalla chiesa. Intanto il sibilo e il dolore erano scomparsi. Qualche giorno dopo, il professore che la visitava disse, ma dove sei stata? Sei stata a Cascia, da Santa Rita? Disse, no, sono stata a San Giovanni Rotondo, da Padre Pio. Il dottor disse, qui non c'è più nessun danno, la membrana tempanica è perfettamente sana. Chi narra questo episodio? Questa è la testimonianza di Padre Iassenza Danilo, nel suo libro. Raccolta da Padre Marcellino. A fare l'esperienza del Cireneo, cioè a fare l'esperienza di colui che viene aiutato a portare la croce da Padre Pio, oltre a dei religiosi e dei laici, è stato persino un Papa. E questo era Pio XII, che nell'inverno del 53-54, Papa Pio XII si ammalò gravamente. La sorella del Papa era devolta di Padre Pio e gli scrisse chiedendogli accuratamente preghiere. E Padre Pio risposo, di lei che è la sorella del Santo Padre, comprendiamo lo strazio, ma lo strazio dei figli non si crede inferiore a quello della sorella. Ho offerto al Signore tutto me e la mia offerta continua. Preghiamo, immoliamoci e confidiamo. E si legge nella posizione. Si sa che il Papa guarì miracolosamente. Basta leggere nella stampa del tempo la rivelazione fatta da Padre Rotondi in merito all'improvvisa guarigione di Pio XII. Una volta guarito, venito a conoscenza della roica offerta di Padre Pio, il Papa fece arrivare a Padre Pio tramite il prosegretario di Stato, Monsignor Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI, una lettera dell'indirnanziamento. Padre Pio aveva veramente un rapporto davvero stretto con Pio XII e Pio XII ricambiava la devozione e l'ammirazione che Padre Pio aveva nei suoi confronti perché sono varie le attestazioni di stima che Papa Pacelli ha espresso nei confronti di Padre Pio e che sono già pubblicate. Quindi lo stesso Pio XII ha beneficiato delle preghiere e della sofferenza perché Padre Pio anche in quella circostanza dopo aver pregato per la guarigione del Santo Padre stette molto male e pagò sulla propria pelle con la propria sofferenza la guarigione del Papa. Ma perché a tuo giudizio si paga la guarigione degli altri in alcune circostanze attraverso la propria sofferenza? Perché Padre Pio pagava con la propria sofferenza? Era la sua generosità, voleva seduzione tutti i mali del mondo, voleva che la gente fossero felice. Non lo so, era una fissazione di questa generosità e la gente diceva ma comunque già avete le piacche, già soffrirei. No, non mi importa, io posso avere altre piacche, ci possono essere altre parti del corpo che possono soffrire. La sua idea era di eliminare la sofferenza come la sua idea era chiudiamo il purgatorio, liberiamo questa gente. Non lo so, una visione che per noi non è facile da capire ma lui aveva questa apertura a tutto il mondo, diciamo, non lo so, di tutto il mondo che si vede e che non si vede. E stava davanti a lui e lui aveva una percezione che era unica, che noi non potevamo afferrare. E così questa generosità è stata immensa e non credo che ci sia stata un'altra persona nella storia del mondo che abbia accettato questa idea di offrirsi e soffrire totalmente per gli altri. Quindi padre Pio aveva consapevolezza del valore, dell'utilità della sofferenza che non poteva essere annientata ma che poteva essere magari spostata da una persona all'altra ma comunque la sofferenza aveva un valore per unire la propria alla sofferenza redentiva di Cristo. Esattamente. Questo è un concetto vero di teologia. Santo Masa l'aveva, lo stesso Dante, un po' quando parla di contrapeso, ogni cosa deve avere, bilanciare cosa, deve essere bilanciare da un'altra cosa. E così questo senso che Dante aveva percepito così bene, lo stesso sta qua che il mondo si deve soffrire per andare dove si deve andare a godere eternamente. E qui io aiuto a soffrire gli altri su cui io posso andare più facilmente. Come diceva San Paolo completo nella mia carne quello che manca alle sofferenze di Cristo. Esattamente, che si è avvicinato tanto a San Paolo con la sua vita e poteva dire queste cose che non possiamo dire. questo dunque è un altro episodio che, anzi, questi che abbiamo narrato oggi sono altri episodi che ci confermano la grandezza di Padre Pio non soltanto per i doni ricevuti ma anche per la profondità teologica che non solo le sue parole ma anche la sua vita, la concreta esperienza della sua vita gli hanno consentito di esprimere e di diventare insegnamento per tutti noi che cerchiamo di seguire le sue orme. Continueremo a parlare di Padre Pio continueremo a raccontarvi fatti meno conosciuti della sua esistenza nella prossima puntata sempre con il Dottor Giuseppe Cacciopoli. Grazie a tutti